Il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti. Contro la vecchiaia e le malattie. Ma soprattutto conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro. E invece il tennis? Uno schifo. E' roba per signorini. Da finocchi. Una cosa. E il calcio? Beh, e il calcio? Beh, cosa? Beh, lo schifo. Vomito. Sì, sì, c'ha due. Ah. Bene. Voglio anche dirvi che mi fanno pena e schifo gli impiegati che vengono in ufficio in macchina. E che la sera corrono a rinchiudersi in quelle scatole di sardine invece di farsi una bella sgambata fuori città. Lei! Io? No, no, lei lì dietro! Io, dice. Non voleva parlare con... Vuole parlare con... Io. Alla Milano-Sanremo del 1931 è arrivato Terzo Piemontesi. Secondo guerra... E' primo! Primo? E' per primo Carnera. Cos'è la punzonatura? Eh, dunque, è la punzonatura. Dunque, dici se è punzonatura un... quando... l'acqua... quando... non me lo ricordo più. Non se lo ricorda più. No, eh sì, mi sembra... insomma, forse si potrebbe ipotizzare che la punzonatura è un... è una cattivazione. Cioè, quando si dice, gli ha dato una gran punzonatura. Ah sì, è... quando uno sciame da api che... no, è un... è un piatto regionale abruzzese. Un piatto regionale abruzzese. Allora mi risponderà Mi risponderà Fermi tutti! La funzionatura e l'assegnazione dei numeri di corsa Le cose cambieranno qui Voi non avete idea di che cosa vi aspetta, maledetti smidollati! Fuori! Loro purtroppo un'idea di quello che li aspettava ce l'avevano e come O si improvvisavano ciclisti o erano fottuti Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!